Ciao, oggi voglio proporvi una torta che mi piace moltissimo la Japanese Cotton Cheesecake che è una torta a metà tra una cheesecake e un soufflé in questo caso non avremo la base di biscotto come nella cheesecake classica però è una torta molto buona, soffice, appunto cotton perché è molto morbida e può essere gustata tranquillamente semplice oppure con un topping alla fragola o un topping al cioccolato o qualsiasi salsa a voi piaccia di più non mi resta che mostrarvi come si prepara la ricetta, la nostra ricetta e buon appetito! Ciao! 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 Ciao!